Per la causa numero due ha la parola l'Avvocato Mauro Sandri, prego. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutta la Corte. Il diritto vivente ci porta a decidere una questione che, in forza della quale vi è una legge dello Stato, che ha statuito che un docente, sospeso dal lavoro, che commette una strage, che importuni uno studente, che stupri, che rapidi, ha diritto all'assegno alimentare, in via provvisoria, e se condannato non deve nemmeno restituire quanto percepito. Un docente non vaccinato non ha diritto a questo assegno alimentare. La problematica è semplice e tutta qui. Se sia compatibile questa normativa con l'articolo 2 e con l'articolo 3. Questo è quello che ha richiesto di chiarire a voi la dottoressa Piponzi. Io credo che la risposta sia già nella sentenza 116 del 2021 della CEDU, che ha fatto salvo l'obbligo vaccinale, precisando che esso è legittimo laddove prevede una sanzione di poche centinaia di euro, che poi è normalmente quello che viene attuato anche in relazione all'altro obbligo vaccinale previsto nel nostro Paese, a seguito del decreto Lorenzini. Oggi però mi preme entrare nel merito dei presupposti che hanno potuto portare a questa vicenda, vale a dire i contenuti di questa legge. Persone integerrime, condannate a pane e acqua e all'udibrio generale, perché il legislatore scrive all'articolo 4 ter che l'obbligo vaccinale è previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. Prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. E' un legislatore, ahimè, ignorante, in senso la latino ovviamente. Ignora evidentemente i contenuti delle autorizzazioni che sono state rilasciate dalla Commissione europea. Ignora i contenuti dei pareri rilasciati da EMA, perché EMA non ha rilasciato un parere di cui poi esamineremo e di cui ho prodotto in atti l'ITER perché venisse approvato un vaccino che immunizzasse. Ha rilasciato un parere perché venisse approvato un vaccino presuntivamente efficace contro la malattia. Poi il legislatore e la Commissione europea che ha materialmente approvato questi vaccini non lo ha fatto perché immunizzassero dal virus. Ma c'è molto di più. Quello che nessuno ha esaminato seriamente è i dati sulla sperimentazione. La sperimentazione non è stata fatta sull'immunizzazione dal virus. L'end point della sperimentazione è stato semplicemente quello del tentativo di evitare le forme gravi della malattia. Perché qui c'è un altro problema che è sorto e che è il problema che ci porta ad aprire un altro segmento. Ed è quello della commistione estremamente grave dal punto di vista della sostenibilità di tutta questa problematica che viene a essere fatta tra virus e malattia. Io ho presentato un'istanza di rinvio e in quell'istanza ho fatto presente che anche la convocazione in questa sede nonché le sentenze di questa Corte numero 127 presentassero questo limite. Vale a dire di identificare la malattia con il virus. Quindi di sovrapporre la causa all'effetto. E questo è un limite talmente abnorme che adesso ci porterà a vedere quali conseguenze sono scaturite da questo limite avendo presente sempre le linee guida degli organismi sanitari internazionali. ovviamente parametrate a come sono state incistate dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute nel nostro Paese. A cosa ha portato la sovrapposizione di due concetti scientifici completamente diversi? Ha portato a far sì che ogni soggetto rilevato positivo ad un strumento in vitro diventi automaticamente un malato di D-Covid. Noi siamo l'unico Paese al mondo che ha 23 milioni di asseriti malattidi di D-Covid che tali non sono. L'identificazione ascientifica abnorme tra virus e malattia determina la conseguenza di avere una pandemia che non ha assolutamente ausbergo in questo Paese. Questo è un profilo essenziale perché se si amplificano in maniera assolutamente fuori da ogni perimetro scientifico i dati della pandemia è chiaro che si entra in un campo in cui l'errore di di fatto diventa come già successo al legislatore che ha avuto l'ardire di privare dei mezzi di sostentamento il corpo docente di questo Paese ha avuto l'ardire di affermare un falso vale a dire che questo vaccino fosse stato approvato per immunizzare questo vaccino non è stato approvato per immunizzare ma non è stato nemmeno sperimentato per immunizzare questo è il punto essenziale quindi siamo di fronte ad una manipolazione dei dati che non è una manipolazione ahimè di poco di poco spessore quantitativo perché perché i positivi i cosiddetti positivi a rilevamento con PCR o con l'altro strumento in vitro antigenico rappresentano il 98% di queste di questi presunti malati se il 98% delle persone viene rilevato positivo ad uno strumento in vitro e non si ammala mai come si può sostenere che ci sia una pandemia in questo paese perché l'OMS che è più preciso del legislatore italiano precisa che pandemia significa diffusione della malattia non diffusione del virus sono due concetti completamente diversi che non stanno insieme uno con l'altro è come sommare le pere con le mele e dalla prima elementare ci hanno insegnato che questo non è possibile c'è un secondo profilo che io ho sollevato ed è quello questo è un profilo esogeno c'è un profilo endogeno ho prodotto in giudizio nella mia costituzione un report di quella che passa per essere una delle asle più virtuose vale a dire l'Emilia Romagna l'Emilia Romagna mette nero su bianco che amplifica i campioni di prelevati da un soggetto con 40 45 cicli di amplificazione ho prodotto in giudizio studi riconducibile all'OMS e all'ICDC che affermano che oltre i 24 30 cicli ogni persona che viene ritenuta positiva rappresenta un falso positivo questo non lo dice un Novax questo lo dice l'OMS lo dice l'ECDC e voi avete lo scambio io in questi giorni prima di venire davanti a voi ho scritto a tutti e 400 i laboratori che ho fatto una PEC e un FOIA tutti e 400 i laboratori che sviluppano che amplificano i campioni le risposte che ho avuto sono state poche una quarantina tutti indiscriminatamente hanno dichiarato di amplificare oltre i 40 cicli ho portato ho depositato un esposto alla procura della Repubblica di Roma quattro giorni fa affinché sequestri ponga sotto sequestro tutti i dati riversati dalle regioni nella piattaforma dell'Istituto Superiore di Sanità perché se per amplificare un campione signori della Corte bisogna amplificare per 40 cicli tutti indiscriminatamente quei campioni sono falsi positivi non se ne salva uno non ce n'è uno utilizzabile perché perché se avete la bontà se avrete la bontà di leggere la documentazione che ho legato l'OMS afferma un principio ma anche le CDC è un principio essenziale vale a dire il rilevamento qualora dovesse essere lieve e il range del rilevamento lieve per le CDC e per l'OMS va da 24 a 30 cicli oltre non c'è c'è nulla ma se anche ipotizzando contro la scienza contro la scienza che si potesse ritenere che un'amplificazione a 40 cicli è un'amplificazione che rileva il virus SARS-CoV-2 preciso rileva il virus non la malattia attenzione per quella ci vuole altro e dopo vedremo cosa il virus quel test deve essere ripetuto con altro test se no non può essere numerato come test positivo questo lo dice l'OMS nei report che io vi ho citato concludioni Presidente conclusioni e OMS ed essi di si affermano che per la definizione di malattia occorrono i sintomi il nostro istituto superiore di sanità numera come malati tutti i meramente rilevati in maniera fasulla come test ho prodotto in giudizio un altro documento dell'ECDC recentissimo in cui l'ECDC dichiara che i dati italiani sono tutti impresentabili afferma che sono assolutamente non utilizzabili che hanno avuto 20.000 campioni tutti sfasati tra loro tra l'altro è il report che è allegato nell'istanza di rinvio che ho fatto io ho chiesto che questa corte si munisca di un esperto perché non si può decidere su dati falsi non ci può essere sentenza che decida un ultimo punto signor presidente però mi corre l'obbligo di ho prodotto anche la documentazione e lo scambio con EMA EMA vi dichiara di non avere mai effettuato alcuna verifica della efficacia e della sicurezza dei vaccini di essersi semplicemente limitata alle auto di dichiarazioni dei produttori quindi il caso che avete davanti a voi è di un vaccino che per quanto riguarda la diagnostica ha strumenti in vitro autocertificati da enti privati e i vaccini sono autocertificati quanto a loro sicurezza da enti privati come si possa tutelare la salute pubblica lasciandola in mano a privati in conflitto di interessi è un quesito che vi lascio da dirimere la ringrazio grazie grazie a tutti grazie a tutti